se 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 e che cazzo però ogni volta ci serve sempre andare in svantaggio per poi cominciare a giocare 1 a 0 bologna raga secondo me c'è la maledizione dello juventus stadium contro le piccole questa stagione perché incredibile 5 minuti come contro il chievo 1 a 0 bologna cioè erano partite anche bene ma io non so cosa sta succedendo la juve in campionato come si fa ma come si fa ma come si fa una partita che è iniziata con la stessa formazione identica stessi giocatori di juve similia dopo lo svantaggio avevamo messo i paraocchi avevamo cominciato ad attaccare senza sosta tiri occasioni su occasioni fino al gol di alvarito morata che dira cosa mi fai che dira cosa mi fai morata alvaro morata alvaro morata 1 a 1 cazzo si alleluia ragazzi siamo contro il bologna sveglia alvaro morata sempre lui il mio idolo accompagnati da un ammaggio a dir poco sfavorevole figa l'ammazzato dagli il rosso dagli il rosso è il decimo fallo che fa ancora un po gli stacca la gamba io vi dico ernanes ma ernanes che cazzo sei venuto a fare alla juve che sei più macchinoso di un robot figa quando ti muovi ti muovi così quando ti ritiri così e voi mi dite cosa ne pensate nei commenti il secondo tempo che si apre con un evento che stravolgerà l'andamento della partita calcio di rigore per la juve finalmente ci fischiano qualcosa a favore molata salta viene tirato giù di prepotenza dal difensore del bologna su un croz il rigore a me sembra netto poi vabbè ovviamente ci saranno a posteriori tutti e la juve big money paga tanto adesso godiamoci il rigore di dibala la palla è già sul dischetto parte di bala rete rete 2 a 1 juve 2 a 1 juve se liberatorio questo urno se dopo il 2 a 1 la juve comincia a giocare in sciolterza e finalmente si vede il nostro vero calcio morata alvaro morata la mette in mezzo che dirà gol l'avevo detto che è all'azione del gol che dirà finalmente anche lui finalmente anche lui andiamo così anche che dirà si aggiunge alla famiglia juventina grande che dirà 3 a 1 che male soltanto ho tirato un calcio al tavolino mi sono sfasciato mezzo piede che male comunque veramente il nostro problema era la realizzazione perché siamo la seconda squadra in serie A per occasioni create in ogni partita e questa volta finalmente siamo riusciti a buttarla dentro l'emina dammi dei suggerimenti su come fare dei prossimi video dimmi te quello che vuoi e se non hai ancora fatto beh iscriviti già che ci sei fino alla fine forza juventus forza juventus